Buonasera, Salvo Zito è l'artefice e l'organizzatore principale di queste stupende serate, io sono il vicepresidente di Galleria Roma e in questo momento mi scuso che è il presidente che è fuori Siracusa per motivi suoi personali, Salvo ora dirà delle cose che serviranno per illustrare questo incontro con Maria Rosa Malesani, il Maria Rosa Malesani sappiamo già molto perché è stata una nostra verissimamente e ci fa piacere sempre averla qui, per ultimo vi dico che le nostre iniziative continuano in modo tale, parlavamo proprio con Salvo come fa, che diventano anche stressanti perché ne facciamo tutti, e allora Salvo prego ti dici due cose che non ti è rosa, spiegami iniziative da dove è nata e poi ti te l'hai rosa, noi ci stiamo incontrando stasera, non è vero, ci conosciamo adesso da oltre dieci anni quando Maria Rosa trattava, ricordo, gli ebrei a Siracusa, se non ricordo male, e poi abbiamo fatto i quartieri, i quartieri ebraici che fu una bella scoperta, no ma anche i quartieri tutti poi territori, tutti i quartieri, sì sì, ma da lì partiste una sorta di moda, ecco, l'ebraico, l'ebraico, il tema dell'ebraico, il Siracusa esplosa, perché poi tutti si occupavano di ebraismo, insomma abbiamo lanciato come dire, il sassonino, anche se poi non sono appropriati delle nostre idee, vedete questa attrezzatura scenografica perché è un po' da teatro, perché qua domani sera abbiamo una rappresentazione teatrale e abbiamo già avuto ben quattro serate di teatro, due dedicate al tema di Marina di Medilli che è stato molto interessante, con due rappresentazioni sul tema e una dedicata bellissima alla storia di Luigi Tenco. Stasera invece su questo palcoscenico, se così lo possiamo chiamare, si parlerà del Cammino di Santiago, i luoghi del Cammino di Santiago che sempre appartengono soltanto alla parte nord dell'Europa, invece no, invece no, con grande sorpresa scopriremo stasera che si parte anche dalla Sicilia per andare fino a Santiago de Campostelle, è un tema molto interessante, è un tema molto bello, è rivalutato come parlavamo prima negli ultimi anni, dagli anni Ottanta, Giovanni Paolo II fece un incontro di giovani a Santiago e ripartì l'emusiasmo del mare. Esattamente, e quindi noi abbiamo avuto l'affortuna io e mia moglie di andare in auto quest'anno a Santiago de Campostella, ma devo dire che l'afflusso di pellegrini era talmente tanto, da ogni sentiero sulle strade che percorravamo noi in macchina e loro a piedi affluivano pellegrini con gli zai e ogni pochi chilometri c'erano stendi per ospitare tutta questa gente che si recava con un viaggio mistico a Santiago de Campostella. Ma una volta giunti lì la sorpresa è veramente grande, perché l'effetto religioso, l'effetto di fede che si percepisce in quel luogo è impossibile non percepirlo, come quando si arriva a città del Vaticano, che si ha questa magnifica grandezza architettonica. Comunque, vanno le ciance, questa sera parliamo del cammino di Santiago in Sicilia e scopriremo con Maria Roma Malesani, gli aspetti siciliani, quindi i luoghi dove il culto di San Giacomo e quindi qualcosa che ha a che fare con il cammino storico di Santiago ci interesserà. Una buona sera da tutti, grazie a Maria Rosa per essere qua. Io faccio il percorso, faccio con voi il percorso che ho fatto io, perché prima di tutto mi è arrivato l'interessamento a San Giacomo. Come mai Santiago de Compostella aveva avuto questa risonanza nei secoli? Allora intanto chi era San Giacomo? Questo è San Giacomo Maggiore, il cosiddetto, che è fratello di San Giovanni Evangelista. Erano due tra i discepoli di Gesù. Allora, se pensate, San Giacomo era talmente importante ai suoi tempi, talmente alta era la fede in San Giacomo che lo troviamo anche nella vita nuova di Dante. Dante dice, è però da sapere che in tre modi si chiamano propriamente le genti che vanno al servigio dell'Altissimo. Chiamansi palmieri in quanto vanno oltre mare, le onde molte volte recano la palma, cioè quelli che vanno a Gerusalemme. Per dimostrare che si era stati in Terra Santa si portava generalmente un pezzo di palma di Gerico. Comunque era questa l'abitudine. Poi dice, chiamansi peregrini quelli che vanno a Galizia. Quindi già Dante individua come pellegrini quelli che vanno in Galizia e Santiago del Compostela. Però che la sepoltura di San Giacomo fu la più lontana dalla sua patria, di qualcun altro apostolo. E si chiamano Romei in quanto vanno a Roma. Cioè nel Medioevo si faceva la distinzione. Allora erano palmieri quelli che andavano a Gerusalemme perché portavano la palma. Si chiamavano Romei quelli che andavano a Roma e si chiamavano i pellegrini di San Giacomo quelli che andavano in Galizia. Così Dante riassume l'essenza dei pellegrinaggi medievali perché poi le diramazioni di ognuna di queste devozioni sono tante. Però questi per tutto il Medioevo restano i tre percorsi che venivano battuti. Chi era Giacomo? Questo Giacomo è diventato San Giacomo. Vi ho detto era il fratello di San Giovanni Evangelista, uno dei dodici apostoli. Dopo la resurrezione di Gesù partì dalla... molti di loro poi vi ricordate si riuniscono ad Antioquia, insomma comunque partono dalle zone della Palestina e se ne è andato in Spagna. Cioè San Giacomo è in Spagna perché ha fatto quasi 30 anni di predicazione in Spagna e ha quindi diffuso il Vangelo in Spagna. Poi rientra in Palestina e il re Erode, il nipote diciamo di re Erode della strada degli innocenti, comincia a prendere in sospetto i cristiani perché si stavano allargando moltissimo e per dare un esempio fa decapitare San Giacomo. Quindi San Giacomo è il primo dei martiri degli apostoli di Gesù, però siccome era stato lui tantissimi anni a predicare in Spagna, alcuni dei suoi discepoli qui però è quello che ci racconta un po' il martirologio però non possiamo mettere la mano sul fuoco. Comunque perché schienarvi come mai San Giacomo è in Galizia? Cosa fanno? Notte e tempo rubano il corpo di San Giacomo, tra l'altro pare che la testa sia rimasta in Palestina, no? Mi viene un po' da ridere perché come parlavamo anche prima i vari sandi, le varie tutte queste reliquie, le varie cose sono molto legate così un po' alla fantasia popolare, insomma non sono proprio reali, comunque prendono il corpo di San Giacomo, lo imbarcano e lo portano in Spagna, però evidentemente, insomma qualche motivo che non sappiamo, sbarcano proprio in Galizia e basta. Di San Giacomo, quindi noi siamo grosso modo nel 56 d.C., si perdono le tracce fino a che nel 813, quindi pensate che balza enorme, un'erenita che si chiamava Pelaio, Pelaio quindi spagnolo, una notte vede una gran pioggia di stelle, una nebulosa che cadeva sulla terra. E in sodio gli viene detto che, da gli appare San Giacomo, gli viene detto che quella pioggia di stelle indicava il sepolcro, cioè dove era sepolto la tomba di San Giacomo. lui fa, diciamo, va dal vescovo locale e gli, anzi prima va dall'abate che era di quella zona, perché siamo tra Finisterre, Finisterre, cioè l'estremo lembo di terra Galizia in Spagna, cioè della Spagna, e va lì e da l'abate del monastero gli dice appunto che gli è apparso in sogno, che ha visto le stelle, vanno in questo porto a scavare ed effettivamente trovano un sepolcro, una tomba. E da quel momento esplode, diciamo proprio, il vescovo locale si chiamava Teodomiro, tanto non ce lo ricorderemo, esplode il culto di San Giacomo, di Santiago. Santiago è la contrazione di San Giacomo, Santus Giacobus. E viene costruita una piccola chiesa sul luogo del sepolcro, che poi è quella che diventerà la grande cattedrale di Compostela, e il luogo si chiama Campostela, perché è Campus Stelle, cioè era il campo dove erano piovute le stelle. E questa è la raffigurazione più diffusa, più classica di San Giacomo, che veniva rappresentato come il pellegrino classico, che allora si distingueva per il bastone, poi vedremo che veniva consegnato al momento dell'inizio del viaggio, il cappellaccio perché serviva a proteggere, e qui manca la Pisaccia, in questo, ma è una delle immagini più vecchie, e l'altra era la Pisaccia. Ecco, questo, vedete dov'è Santiago de Compostela, c'è, siamo proprio all'estremo lembo nord-ovest, nord della Spagna, vedete lì Madrid, il punto d'incontro dell'ultimo pezzo che facevano tutti insieme, cioè si raccontava, è la Puente la Reina, che vedete lì, Puente la Reina, quello era, diciamo, il punto d'incontro per andare poi a San Giacomo. A Santiago viene poi, viene, ho detto, questo lo sappiamo perché c'era un codice, il codice, il codice Calistinus, che si chiama anche Liber Santi Jacopi, e lì ci viene raccontato tutto quello che vi ho detto adesso, il libro di San Giacomo. E stiamo, pensate, tra il 1139 e il 1173, quindi la maggiore diffusione, vedremo anche in Sicilia, viene attraverso i normanni, siamo il periodo dei normanni, poi l'inizio degli svevi, e maggior ragione sarà con gli aragonesi che, essendo spagnoli, promoveranno ancora di più. Perché poi prende questa enorme importanza? Sono quelle cose strane, nel senso che, come Santa Lucia a Siracusa è la martire riconosciuta, però noi sappiamo che ci sono stati, per esempio, in una sola volta, 300 giovinetti martirizzati all'anfiteatro romano. Però, come sempre, nella vita c'è la una persona, una figura, una cosa che in qualche modo emerge rispetto a tutti gli altri. E così San Giacomo. Perché San Giacomo? Perché San Giacomo viene preso come immagine di colui che distruggeva i mori. Siccome voi sapete che la Spagna è stata fino al 1492, il regno di Granada è l'ultimo pezzetto degli arabi in Spagna, però prendeva tutta la Spagna, quindi man mano, man mano, la vittoria sui mori veniva attribuito alla protezione di San Giacomo, ha chiamato anche Matamoros, in spagnolo Matar vuol dire uccidere, quindi quello che uccideva i mori. E siccome, come abbiamo noi qui, vedete i miracoli si ripetono, come non so, c'è la Madonna delle Milizie che compare a Ruggero che doveva combattere gli arabi, cioè così San Giacomo in tantissime occasioni compare come vessillo, come simbolo in cielo di battaglie che poi sono state favorevoli ai cristiani. Quindi la sua fama aumenta sempre di più. E perché allora in questo periodo del Medioevo, che durerà praticamente fino a tutto il 1600, in inizio 1700, sono così importanti i pellegrinaggi. I pellegrini in un certo senso, intanto viaggiavano sotto una protezione importante che era quella della Chiesa, cioè la Chiesa allora, un po' come in tutta l'Europa, aveva una funzione molto importante. E poi era anche, siamo sempre al solito discorso, una importantissima occasione di scambi commerciali. Il fatto di partecipare a queste, abbiamo detto, tre principali traiettorie, voleva dire intanto andare a conoscere abitudini, usi, costumi di tutti questi paesi. Quindi questo afflato religioso ha finito con unificare l'Europa, cioè di portare la gente a conoscere, a dare al di fuori dei propri confini. Ed era, è stato quindi molto importante perché a questi pellegrinaggi, quando partivano da una città, questi primi erano composti da persone importanti, per esempio San Francesco fece il viaggio a Compostela, c'erano notai, avvocati, persone titolate, c'erano ricchi, c'erano poveri, ma c'erano anche gli infimi dell'ultimo ordine, tutti accomunati a questo percorso religioso. Quindi molto importante, questo è il Codex Calipstinus, cioè voi dovreste averlo visto al museo, perché è conservato nel museo della chiesa del Santiago di Compostela, ma probabilmente non è che si può vedere tutto. Ed è questo qui, Turpinus, che vedete scritto, Turpini, di storia a Turpini, perché Turpino era un vescovo, tra l'altro, se vi ricordate il discorso di Orlando Roncisvalle, viene legato a Compostela anche la famosa battaglia di Roncisvalle, la rotta, la sconfitta dei cristiani, si dedicano poi a San Giacomo e il caromano comincia a vincere, c'è poi la vittoria sui mori. Quindi il cammino proprio di Compostela è di 850 km, perché io ho detto partiva dal confine tra la Francia e la Spagna. Poi naturalmente se partivano dalla Sicilia diventavano 1800, perché il cammino di San Giacomo prende tutta l'Europa, Europa del Nord, Europa del Sud, l'Est, cioè tutti i paesi. Poi, per abitudine, chi andava a Compostela andava ad altri 100 km circa a Capo Finisterre, Finisterre, cioè l'ultimo lembo di terra, che era l'estremo punto sempre della Spagna. A Finisterre c'era, siccome è sul mare, da dove si diceva appunto che era sbarcata la nave col corpo di San Giacomo, il pellegrino per dimostrare che era stata a Compostela raccoglieva una conchiglia. Tant'è vero che abbiamo visto qua, vedete sul cappello che c'è la conchiglia, abbiamo detto la palma per quelli che andavano a Gesusalemme, una piastra in cui erano incisi i nomi di San Pietro e Paolo per quelli che andavano a Roma e la conchiglia per quelli che andavano a Compostela. Si raccoglieva la conchiglia e generalmente veniva lasciato un sasso per chi arrivava lì. Naturalmente i sassi poi venivano anche tolti perché ci sarebbero montagne di sassi. Questa è la statua di San Giacomo. Naturalmente non abbiamo testimonianze dirette del periodo, abbiamo sempre delle opere d'arte che sono poi più avanti nei secoli. Ecco, questa è la cattedrale di San Giacomo e quindi Compostela e qui ti direi che rende abbastanza l'idea della mastiosità di una chiesa che ha subito comunque varie vicissitudini. Voi vedete che ci sono vari stili, insomma è stata poi aggiunta, tolta. In ogni modo questo è quello che abbiamo adesso. Direi che è proprio questo percorso di cammini spirituali corre parallelo a quello che sarà poi l'evoluzione dell'Europa, anche commerciale abbiamo detto. Anche adesso ma anche per lungo tempo, anche in Sicilia vedremo, non li chiamano Cammino di San Giacomo ma vengono tutti identificati con la via Francigena perché la via Francigena che partiva da Calterni, quindi Inghilterra e conduceva a Roma, aveva un percorso comune fino al confine tra la Francia e la Spagna comune con quello di San Giacomo e anche qui i percorsi della via Francigena che portava appunto dal nord Europa a Roma, anche in Sicilia vengono identificati. Perché noi abbiamo potuto ricostruire le vie dei pellegrinazzi? Perché noi abbiamo avuto nel 994, siamo un po' prima dell'anno 1000, un vescovo inglese che si chiamava Sigerico, il quale venendo a Roma scrisse e descrisse e anche lasciò dei disegni dei vari punti che erano punti di sosta, potremmo dire. erano questi punti di sosta che erano chiamati ospitalia, ospes cioè per ospitalità, erano a 30 chilometri uno dall'altro, anche in Sicilia sarà mantenuto questo discorso dei 30 chilometri uno dall'altro che è più o meno, vorrei vedere adesso, il percorso che si faceva in una giornata di cammino. Queste vie di comunicazione spirituali, come abbiamo accennato prima, diventano anche vie di conoscenza dell'arte per esempio, venivano esportate le varie espressioni d'arte, abbiamo detto per quanto riguardava tutta la vendita anche dei prodotti a chilometro zero che poi venivano portati e conosciuti e essendo un pellegrinaggio che proprio per un discorso religioso raccoglieva persone, abbiamo detto, di tutti i generi che davano questo scambio e anche questo sarebbe anche l'iteram, sono le nostre promozioni turistiche perché ovviamente venivano questi pellegrinaggi per il gran numero di persone che transitavano e venivano da tutte le parti che si raccoglievano in quel posto, la punta, della poeta della reina e quindi favorì moltissimo lo scambio commerciale e anche fece nascere molte locali, oltre agli ospitalia erano generalmente presso monasteri oppure nascevano così ma avevano sempre un discorso di cura potremmo dire quasi fisica perché chi magari si era rovinato i piedi, chi aveva mangiato poco, insomma venivano anche curati, generalmente negli ospitali assistava massimo due giorni, era per un giorno perché la mattina dopo la carovana ripartiva e qualche volta quando si percorrevano per esempio i Pirenei o parte delle Alpi, cioè le zone più difficili c'erano anche due giorni e avevano tutti ricchi e poveri un letto e un pasto caldo, quindi venivano proprio ospitati. Però per essere pellegrini bisognava anche sottoporsi a una specie di alcuni riti, non è che era così semplice e veniva quindi dato da parte del sacerdote più importante del punto di partenza, veniva consegnata la bisaccia e la bisaccia doveva contenere un pezzo di pane, un rosario e il, potremmo dire adesso ho un paio di scarpe di ricambio, cioè proprio le cose necessarie, veniva dato poi il mantello e veniva anche dato il bastone, il bastone che aveva la punta di ferro, ufficialmente veniva data per difendersi dai cani randaggi, dai luppi, cioè di chi si incontrava e poi diciamo in primo ordine per cacciare i demoni perché questi cammini così difficili potevano anche avere delle tentazioni demoniache. Quindi per questo grandissimo numero di pellegrini si cominciarono a costruire nuovi ponti, si cominciarono a costruire nuove strade, alcune di queste sono quelle che poi anche nella modernità sono state allargate, ma sono le stesse, perché senza tutte le strumentazioni moderne riuscivano, pensate anche alle nostre strade delle Dolomiti, parliamo di 2000 anni fa, hanno fatto i percorsi dove esattamente poi con la strumentazione si sarebbero fatti, perciò era questione anche di esperienza e di conoscenza del territorio. Dunque intanto il pellegrino, il nome pellegrino deriva sempre per ager, cioè attraverso i campi perché naturalmente non si dava per scontato che c'erano le strade. Il mantello doveva essere un mantello di lana ed era chiamato schiavina perché era un tipo di mantello che da sempre era usato dagli schiavi, dai serbi. Però essendo molto ampio, svolgeva la funzione, questa funzione di, ecco vedete, 790 km, questo da confine con la Francia e ecco il Batamoros, vedete, in vari quadri, periodo medievale fino al 500, c'è San Giacomo che calpesta i mori, li sconfitte, qua invece questa è la cattedrale di Burgos che ha sull'altare, chi l'ha visto, vedete ci sono sotto gli infedeli e lui con la spada e il cavallo che li calpesta, quindi il Batamoros, qui così è un'immagine del pellegrinaggio. E questo è il cippo di Finisterre, cioè quello che è l'estremo confine della Spagna, questa è la croce che c'è sempre a Finisterre e a questa croce di solito viene depositato il sasso, vi ho detto che portano i sassi, naturalmente poi li tolgono perché altrimenti... e questo è un insieme di bastoni con la conchiglia di San Giacomo, penso che sia preso dai vari negozi di souvenirvi adesso, insomma non è che sono antichi. Ecco, la via francigena a cui abbiamo accennato, vedete, Canterbury, lo vedete là, quindi passavano la manica, attraversavano tutta la Francia, poi vedete quello lì a Puntini, Toulouse, questa è quella che andava in Spagna e diventa cammino di San Giacomo e poi continua in Italia fino a Roma, attraversando le Alpi, la Lombardia, poi vedete grosso modo un po' le nostre autostrade e poi lungo il mare arriva fino a Roma. Questa è tutta la rete delle vie francigene e del cammino di San Giacomo, vedete qua siamo, queste carte sono state composte con le vecchie cronache, quindi immaginate veramente che movimento di popoli c'era, enorme, pensate poi nelle condizioni in cui vivevano allora. Allora, San Giacomo de Compostela aveva anche, l'ordine di San Giacomo aveva anche il suo stemma, allora l'ordine di San Giacomo in generale è senza la conchiglia ed è questa croce che ha la parte finale a spada. Intanto è vero che questa questa qui proprio è il simbolo di Santiago della spada, Santiago del Compostela della spada che è un ordine che viene fondato all'inizio del 1400. Allora abbiamo detto il mantello e poi il bordone, cioè il bastone in modo un po' spregiativo, ironico veniva chiamato bordone, perché bordone è dal latino burdo che vuol dire mulo, cioè era quello che in certo senso gli doveva portare. Ecco quindi questa cosa, poi abbiamo detto la bisaccia e per quelli che poi tornavano da Santiago veniva giunta la conchiglia. Per andare a fare questi pellegrinaggi si faceva testamento, cioè generalmente uno faceva il pellegrinaggio a Santiago, non era per curiosità. Allora a volte era una scelta di purificazione spirituale, a volte era una penitenza data dal confessore per dei peccati particolarmente grandi e invece poi c'erano anche quelli che facevano il pellegrinaggio al posto di un altro, cioè i ricchi generalmente si compravano una o due persone che andassero a fare il cammino di Santiago per conto loro e quindi si risparmiavano tutta la fatica. Oppure si andava il pellegrinaggio per un muoto, per chiedere una grazia, si faceva questo pellegrinaggio. Il ricco, quindi dietro l'autocompenso, c'era gente che si tornava viva, si era riuscita e andava a fare il pellegrinaggio al posto di quello che doveva andare. Lungo il cammino, quindi abbiamo detto, sorgono gli ospitali, sorgono le chiese, sorgono i monasteri, sorgono anche i centri, le città diciamo e in questi punti di ristoro potremmo dire le figure principali che gestivano queste cose erano i nostri amici templari e i templari vedremo una grande importanza anche in Sicilia. Il culto del Santo si diffuse anche in Sicilia, addirittura al tempo dei bizantini, però abbiamo detto che per la loro massima diffusione con i normani, Federico II, cioè gli svevi continuarono a proteggere perché proteggevano anche i templari e poi agli aragonesi che essendo spagnoli caldeggiavano moltissimo questa devozione a San Giacomo. Vedete in Sicilia il cammino di San Giacomo aveva tre direttrici principali, una direttrice che partiva da Trapani, vedete Trapani là a sinistra, Trapani che però era Marsala, anche se veniva chiamata Trapani il punto, e andava vedete a Palermo facendo una deviazione per la valle del Belice, infatti troviamo molte chiese, molti cose intitolate a San Giacomo in tutta quella zona. C'era poi l'altro percorso che arrivava a Messina, cioè praticamente tutti poi si conducevano a Messina e vedremo perché. Per quanto riguarda noi, cioè la Sicilia sudorientale, faceva lo stesso percorso arrivava a Messina, però aveva un suo importante punto che era considerato proprio come Santiago di Compostela che era a Caltagirone e adesso poi diremo perché. Vedete sotto che per quanto riguarda, c'è anche Siracusa, vedete Siracusa, Melilli, Lentini, Lentini è un punto nodale importantissimo del cammino di San Giacomo e Modica, quindi Modica e parte anche da Scicli e adesso vedremo che ci sono ancora tantissimi resti, però pensate per esempio che abbiamo la strada che fa Agrigento, vedete Agrigento, Partinico, San Filadelfo Marina che adesso si chiama Quedolci, poi abbiamo le sorgono Messina, Licata, Comiso, Capizzi, Castronomo di Sicilia e poi siamo nel 1200. Nel 1300 comincia Palermo, Caccamo, Enna, Piazza Armerina, Siracusa, Ferla, Ragusa, Gera, Caltagirone, Vizzini, Mineo ed Augusta, perché Augusta è l'ultima, vedremo poi perché. Molte di queste chiese vengono appunto munite dell'ospitalia, perché? Che cosa succede? Succede che rispetto ai primissimi secoli, quando cominciamo a arrivare al 300, 400, quando cominciano anche le guerre tra le varie nazioni europee, insomma comincia a spezzettarsi l'Europa, diventava difficile arrivare a Santiago e allora ogni regione e quindi anche la Sicilia si organizza con questi percorsi a cui i papi delle varie epoche danno la stessa possibilità di ottenere l'indulgenza plenaria come se avessero fatto il loro cammino a Santiago e alcuni di questi punti sono più importanti di altri, ma tutti fanno capo a Messina, infatti un paio di mesi fa io sono stata a Messina e per quello poi mi è venuto in mente anche di mettere insieme un po' la conversazione, loro stanno predisponendo e stanno restaurando da Palermo a Messina, vedete quella linea gialla, quella era il percorso di San Giacomo via mare e da Palermo andava a Messina perché a Messina porto importante, partivano le crociate, partivano quelli che andavano in terra santa, arrivavano quelli che dovevano andare a Roma o tornavano da Roma e soprattutto questo nel cammino di Santiago, quelli che poi proseguivano bene, quelli invece che rimanevano in Sicilia facevano come punto d'appoggio la città di Messina. Che cosa succede? Che c'erano le vie montanare e le vie marine, questa da Palermo per esempio a Messina è una via marina e come via marina è quella che va all'Agrigento Alicata e poi fa il percorso dalla parte nostra. Sempre nel XIII secolo la Sicilia con l'inizio, cioè con tutto il periodo delle crociate diventa molto importante e diventa anche la base di moltissimi ordini cavallereschi perché gli ordini cavallereschi e quindi pensiamo ai cavalieri chiltonici, i templari, gli ospedalieri di San Giovanni che diventano poi i cavalieri di Malta e tutti questi si concentrano abbastanza o nel porto di Brintesi, quindi in Puglia che era un altro punto di partenza per la terra santa o soprattutto in Sicilia e questi ospitalia diventano molto più importanti di un punto di sosta, diventano anche lì dei centri potremmo dire commerciali o con la valorizzazione del territorio e quindi diventano appunto dei punti dove veniva conosciuto, dove veniva commercializzato anche il prodotto locale ed è per questo poi che si diffonde. Per esempio a partire dal 1500 fino al 1400 ci sono quest'ordine dei cavalieri di San Giacomo della Spada perché hanno anche il potere di essere armati, cioè praticamente anche i templari erano armati, però questi proprio diventano un discorso di difesa reale potremmo dire. per esempio guardate i templari, e qua parliamo della zona del Siracusano, hanno, abbiamo ancora qua delle testimonianze, i templari hanno, Dan Re, soprattutto da Pietro d'Aragona, hanno in dono il territorio, soprattutto il territorio Siracusano e faceva capo a Lentini. I templari fanno tra Lentini, Augusta, cioè tutta questa zona, fanno la loro base addirittura per il Mediterraneo e lì facevano anche l'istruzione dei templari truze, cioè c'erano anche delle organizzazioni che facevano queste preparazioni militari, però c'erano anche delle, vi ho detto, della valorizzazione del territorio. Per esempio i templari che avevano la loro praticamente casa madre del Mediterraneo avevano bisogno di molta acqua e noi sappiamo che come fiumi in Sicilia tranne il simeto non è che ce ne sono molti. Quindi loro fecero degli sbarramenti e crearono quello che noi ancora chiamiamo il bigliere di Lentini. Voi sapete che non era questo il bigliere che era portato più a sud, questo è il nuovo bigliere dove hanno fatto tutta l'arte. Però loro fecero, pensate, delle dighe, che siamo 1200, pensano delle dighe per imbrigliare l'acqua e crearono il bigliere di Lentini che dava poi acqua a tutto. Poi se qualcuno di voi, non so se è andato in un agriturismo che si chiama la Badiula, che è vicino a Lentini, e questa ha ancora dei resti della vecchia ospedale dei templari. E loro lì, oltre appunto all'accoglienza i pellegrini, oltre al fatto di fare spetti di campo talmi, avevano avuto sempre, prima addirittura da Federico II, poi dei re aragonesi, avevano avuto la licenza di pesca e di caccia e tuttora il fiume di questo percorso riservato a loro è ancora il fiume San Leonardo, quando andiamo a Catania passiamo il ponte del fiume San Leonardo, il fiume San Leonardo che tuttora, pensate, è ancora la riserva di pesca e di caccia è lasciata ai templari. Allora, 1315 i templari da Filippo il Bello vengono praticamente cancellati. Tutti questi terreni, tutte queste proprietà vengono ereditati dai cavalieri di Malta, che poi non erano cavalieri di San Giovanni, cavalieri di Rodi, insomma diventano poi cavalieri di Malta. E ancora, ancora, c'è chi di voi si ricorda, c'è chi mi racconta che per esempio all'ospedale di Siracusa, quando era alle 5 piaghe, era gestito dai templari. cioè è una tradizione, pensate, che dura veramente dai cavalieri di Malta, quindi i templari rimangono nel nostro territorio veramente per quasi 1500 anni. L'altra cosa interessante da ricordare è che a Siracusa noi abbiamo la più antica immagine di, questa è la chiesa di Capizzi, questo è il Resti Resti di San Giacomo a Messina. Allora, molte di queste chiese, conventi di San Giacomo che risalgono al 1000, 1200, sono andati, per esempio questo di Messina è stato distrutto dal terremoto del 1908. Queste foto, un po' di degrado, sono state reclammizzate di recente perché si chiede all'amministrazione di tenerne un pochino meglio. Mi sembra la fine di quella zona che abbiamo noi davanti al Palazzo Montalto. che hanno riservato queste zone e poi sono tenute come sono tenute. Questo qui è il San Giacomo a Capizzi e questo è Palermo. Questo purtroppo non ho trovato la foto. Il pezzetto che manca sopra c'è quello stemma di San Giacomo della Spada con la conchiglia perché era appunto l'ospedale, questo ospedale a Palermo che si chiamava allora l'ospedale di San Giacomo poi cambia nome, mantiene ancora nel portale attuale questi simboli di San Giacomo. Queste sono appunto alcune delle chiese ma vedete che sono tutte più o meno moderne perché le chiese del 1100, 1200, 1300 sono andate distrutte anche perché molte non sono state inglobate nelle città poi che si sono espanse, erano un po' ai margini. Vediamo per esempio, ecco questa qui è una vecchissima fotografia e questa è quella che noi abbiamo a Piazza Armerina, l'antica chiesa di San Giacomo. Queste appunto sono, vedete, tutte chiese, le più moderne diciamo sono del 1600. Questa invece appunto è la chiesa di Modica Modica, sì, che ha una, rimasta integra, una delle più antiche. Vedete che siamo sempre a strutture normale, pensate al nostro San Nicolò dei Cordari, cioè queste chiese fatte dai normali più o meno hanno un po' le stesse strutture. Questa è la chiesa madre e poi mi andate, sì Capizzi. Allora perché sto nominando Capizzi che è vicino a Messina? Perché a Capizzi è stata portata la prima reliquia di San Giacomo in Sicilia ed era il punto più importante per 200 anni di questi pellegrinaggi di San Giacomo. Però poi a un certo punto questa reliquia che era un pezzo, l'avventura del dito di San Giacomo venne richiesta dal Duomo di Messina. Ne nacque una quasi guerra per cui poi fu riportata a Capizzi. Allora perché è così importante? Perché voi sapete che il monastero, la chiesa, il posto che aveva una reliquia così importante aveva anche un buon guadagno perché c'erano i pellegrini, c'erano quelli che lasciavano i lasciati, c'erano quelli che per purificare l'anima, la vendita, gli ugeni che lasciavano. Quindi avere un'importante reliquia era fondamentale. L'altra reliquia portata all'inizio del 1300 è quella di Caltagirone. È per questo che Caltagirone che ha mantenuto San Giacomo come santo patrono della città e Caltagirone aveva un pezzo di osso del braccio. Caltagirone ce l'è sempre tenuta e anche ha potenziato questa devozione a San Giacomo. Quindi la chiesa di Caltagirone e questo è il simulacro di San Giacomo però c'è anche il feccolo di San Giacomo. Questo viene portato poi nelle protezioni. È una cassa di benedetta per lì, di argento, ma è una cosa a parte però. Questa è una foto di quando cominciano a preparare la festa, perché poi abbiamo qua un'altra, molto più ricca, molto più fastosa. E questo qui, di tutte queste chiese che abbiamo nominato, tutte queste zone di San Giacomo, è l'unica che ha mantenuto la festa il 24 e 25 luglio, cioè i giorni di San Giacomo. Perché per esempio Capizzi stessa la festeggia a settembre, tutte le altre che abbiamo visto, Modica, ci dovremmo rifare tutto l'eleppo, le fanno il giorno di San Giacomo, le hanno spostate. Perché si spostavano le feste allora? Perché per esempio noi abbiamo, non so, il festeggiamo San Paolo, per esempio a Parazzolo, quando San Paolo, il giorno di San Paolo, ma ci sono tanti altri posti dove San Paolo si festeggia a settembre, cioè così San Giuseppe per esempio, San Giuseppe non è che tutti lo festeggiano il 19, cioè moltissimi dei paesi agricoli prevalentemente fanno la festa del Santo Patrono quando è finito il raccolto e molto spesso quando già si è anche seminato in un uomo, perché i giorni di festa distraevano da quello che doveva essere fatto per i lavori in campagna, quindi molto spesso venivano spostati. Allora noi abbiamo detto, ecco questo è, sarete stati tante volte, l'oratorio dei 40 martiri che è dentro alle catacombe di Santa Lucia, è un oratorio bizantino, la penultima figura è San Giacomo e vi ho detto che in Europa in assoluto, parliamo di bizantini, quindi siamo prima dell'Ottocento, grosso modo 664 è stato ammazzato qui Costante II quando Siracusa era, tra virgolette, capitale dell'impero bizantino, quindi questo oratorio bizantino è di quel periodo ed è di gran lunga la più antica immagine di San Giacomo. L'oratorio, ecco, San Giacomo era pure uno dei punti, avete visto, che partiva anche da Siracusa il penegrinaggio. Dove era la chiesa di San Giacomo? La chiesa di San Giacomo è quella che noi conosciamo adesso come Santa Maria dei Miracoli, che adesso ha ripreso il nome di parrocchia di San Giacomo. San Giacomo, la chiesa originale che risale all'inizio del 1300 era andata di tutta, non esisteva più. All'inizio del 1500 hanno fatto quella che noi conosciamo adesso come Santa Maria dei Miracoli, sapete, dopo la porta marina, la chiesa che c'è. E questa è fatta sulle fondamenta del primo, dell'antico San Giacomo. Quando venne distrutto San Giacomo, la parrocchia di San Giacomo, che poi è stata la prima parrocchia di Ortigia, era niente po' di meno che dove adesso abbiamo Piazza Archimede. Se voi vedete questa cartina, Piazza Archimede, vedete c'è via San Giacomo, perché il numero uno era la chiesa di San Giacomo, che era la prima e più importante parrocchia di Ortigia. Poi aveva vicino un orto, poi c'era il convento dei padri Teatini e poi c'era la famosissima chiesa di Sant'Andrea Apostolo, che era la coca esatta di Sant'Andrea che abbiamo a Roma. Poi dietro c'erano invece i magazzini. Vedete che è scritto là, dove poi hanno buttato un po' di tutto e hanno aperto Corso Matteotti e fatta poi la piazza Archimede, che conosciamo noi. Quindi sotto in arancione erano i magazzini, le cose che erano di pertinenza del convento dei Teatini. San Gaetano da Tiene, la chiesa di Sant'Andrea era tenuta dai Teatini. Questa chiesa voi sapete che in occasione 1876, in occasione, torniamo un attimino indietro, questo terreno, questo territorio era stato individuato per aprire la piazza laica di Ortigia, perché Ortigia, tranne la piazza Duomo, il piano del Duomo non aveva spazi aperti, però siamo all'inizio del Novecento, fino all'Ottocento e inizio del Novecento si è pensato di creare uno spazio, una platea che potesse, diciamo, non contrapporsi ma affiancarsi a quella religiosa del piano del Duomo, perché al piano del Duomo avevano il Duomo, la Ciovescovado, Santa Lucia e si pensò di fare questo. L'idea venne anche perché là il palco di Sicilia aveva deciso di fare una sede a Siracusa e individuarono tutta questa serie, voi ne avrete viste tante volte le foto di tutte le casette, casettine, catapecchie che prendevano questa parte di quello che noi adesso vediamo occupato dal Banco di Sicilia e cominciarono ad acquistare questo terreno, allora non si sapeva come fare perché la chiesa di Santa Andrea era la più grande di Siracusa, c'erano sei cappelle per parte, poi pensate che conteneva addirittura dietro l'antare maggiore una piccola chiesetta dei marinai perché erano stati mandati via da Porto Salvo, tutta la zona verso il porto ed era stata ristretta dietro la chiesa di Santa Andrea. Allora a questa fine dell'Ottocento in occasione del funerale di Franci Canava, il senatore Franci Canava, invece non succede un po' credente, ma io non lo dico io, lo dice anche Agnello che è stato riportato anche dal Privitera, cioè questo funerale era in pompa maglia con tutti i cieli accesi, c'erano tutti i vari drappi neri così e le fiamme dicono mantenute un po' alte fecero prendere fuoco alla chiesa. Durante la notte, insomma all'inizio della notte, chi abitava in zona, vidro il fumo, uscire dalla chiesa, ma fatto stare che la chiesa venne distrutta dall'incendio. Con questa occasione non si ricostruì più e si cominciò a smantellare la piazza. Allora San Giacomo, che era la principale parrocchia, poteva sparire? No. E la portarono a quella che noi conosciamo come Santa Lucia la Piccola, c'è il via Cavour, al numero 13-15 di via Cavour, se voi andate, c'è un negozio di ceramiche, però se chiedete c'è il cortiletto, o da lì vedete c'è il cortile della chiesa di Santa Lucia la Piccola, c'è ancora un finestrone della chiesa e venne portata lì la parrocchia di San Giacomo. Poi nel 1931 venne abbattuta, hanno fatto questo bellissimo edificio 900 e la parrocchia venne spostata alla Santa Maria dei Miracoli, per questo che tuttora la chiesa di Santa Maria dei Miracoli è parrocchia di San Giacomo. E questa è un po' la storia di di San Giacomo a Siracusa. E fu l'Argevescovo Baranzini, un'altra figura che abbiamo sentito nominare tutti, che decise che la parrocchia di San Giacomo andava all'attuale Santa Maria dei Miracoli. Vi ho detto, penso di avervi detto le cose più interessanti, potremmo approfondirvi a dire ognuna, perché ognuna di queste ha una storia, ognuna di questi posti, però a me ne salva darvi un po' l'idea che non occorreva andare a San Giacomo di Compostela, ma si potevano acquisire le stesse indulgenze anche restando un po' nei nostri posti. Per un breve periodo, vedete là il segno del tetto, anche il castello Magnace ha ospitato una chiesa di San Giacomo. Qui siamo, io penso che siamo fine 800-1900, lo che viene poi duttato giù quasi subito. Vedete il portone di ingresso del Magnace, dentro ci sono le costruzioni militari che si intravedono all'interno. C'è stato per un periodo anche lì la chiesa di San Giacomo. Poi questo qui, questa è un'immagine invece del… ah questa era sì, ma non rende, perché è qua il 13-15, tra via Favura e via dei Candelai, il 13-15 dove c'era la Santa Lucia la piccola, era dietro quest'angolo più o meno. E questo l'ultimo invece era l'immagine dell'attuale viviere di Lentini, quello dei Templari era spostato. Ci sarebbe appunto, torno a dire, non mi voglio annoiare di più, sarebbe da raccontare un sacco di robe in più per ognuno. Io quello che mi interessava un po' è dargli l'idea di questo culto a San Giacomo che veramente è stato notevole. Adesso molte parrocchie, un po' dico in tutta Italia ma un po' in tutta Europa, stanno ricostituendo i gruppi dei camminanti per Santiago e de Compostela. E l'ho detto prima, comunque lo ripeto, questa rivalutazione dei pellegrini di San Giacomo l'ha data Giovanni Paolo II che fece un incontro dei giovani a Santiago e de Compostela nell'84 e da allora rifiorì. Perché decade un po'? Intanto finisce la grande influenza degli spagnoli, poi abbiamo nel Settecento, un Trierci, poi Savoia, insomma cade un po' questa... e in più diventava con le varie guerre, con gli spostamenti, diventava sempre più pericoloso incamminarci per Santiago. Adesso probabilmente ci sono le condizioni per poterlo fare un pochino più agevolmente. Vi ringrazio. Grazie. 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 Maria Rosa, una cosa bellissima, una curiosità su Santiago. Perché penso che quasi nessuno sappia che in Sicilia c'erano le vie delle pellegrine di San Giacomo. Non lo speriamo neanche che la prima parrocchia in Ortigia, in Sicilia, la cattedrale, che esiste su una chiesa di San Giacomo a Piazza di Pineda. E insomma... La chiesa di San Giacomo a Castello Magnace. A Castello Magnace, nella chiesa di San Giacomo. E volevo raccontare nella particolarità dentro la cattedrale di San Giacomo della De Compostela di questo enorme incensore che loro chiamano Boda Fumero, perché probabilmente i pellegrini dormivano nella cattedrale, quindi si fermavano e chissà che odore che ne veniva fuori. Quindi avevano un incensiere del diametro di due metri che con una cima grossa così, loro manovrano e lanciano attraverso la cattedrale a una velocità di 70 km orari. Cioè sale e poi scendere attraverso la grandissima... Quindi purificava l'aria in Francia. Purificava l'aria. Adesso questo movimento si fa soltanto nelle celebrazioni ufficiali. però si può ottenere al pagamento con 300 euro. Che ha questa curiosità. Per fare soldi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perciò, inseriranno anche il percorso della Sicilia sud orientale… La Sicilia sud orientale? perché da lì passavano... Quindi si partiva da Siracusa e si arrivava a Messina Perla, Lentini e poi ci arrivava a Cartagirone si partiva da Cartagirone oppure si faceva la costa e si arrivava a Messina prendendo Augusta Il punto d'arrivo è Messina Il punto d'arrivo ufficiale era Messina però nel tempo il posto dove si ottenevano le ducreiche il posto il principale era Cartagirone Quindi non più Messina che era scontato a Cartagirone C'è una scena bellissima del film I crociati a un certo punto si vede il porto di Messina e le navi dei crociati con le vele e con la grande croce che attraversano lo stretto per andare verso Ma è la scena, scopendo perché uno può immaginare Ma voi immaginate che noi abbiamo avuto ospite di Cartagirone Cioè noi abbiamo una storia della Sicilia medievale io sono appassionata di me meglio di voi l'avete capito C'è una storia medievale della Sicilia sconosciuta che ha delle cose impressionanti Anche Riccardo Guardileone Riccardo Guardileone è stato qui quasi due anni è stato anche ospite di Siracusa Noi abbiamo visto una tomba Sciato Guardileone C'è il cuore Sì Il cuore Il cuore Conosciuto è molto interessante Perché tra l'altro poi Con la permanenza di Riccardo Guardileone Sono venute fuori Anche ad esempio Si dice che Riccardo Un po' come la storfo Di Riccardo Dell'Orlando Furioso Ha riuscito a sorvolare l'Etna E ha buttato le scali dentro l'Etna E poi sono fiorite Un sacco di cose Di leggende Di storie Comunque Lui è stato qui Ed era in attesa Di imbarcarsi Per la Terra Santa Oltre i greci Qui abbiamo avuto Tanta anni Ma se no Noi ci siamo Fissati Ci siamo fissati Sui greci e i romani Ma noi abbiamo vestigia Anche monumenti Vestigia Anche medievali Il marè Il barocco Cioè l'età moderna Ma proprio complementamente Sant'Alta a che parli Non se ne parla Così mai Io Reputo di essere Una delle poche Che ogni tanto Porta Acqua a Muglino A Medievo E allora Ti invitiamo Ufficialmente A portare qui qualcosa Voi pensate che un giornalista Di Siracusa Molto quotato Mi ha detto Ma io non scrivo Non pubblico niente Di tempo Che Medievo Non interessa a nessuno Forse non interessava A lui Non pensavo Ma bisogna essere curiosi Io sono E il Medievo Da molti motivi Per essere curioso Sì perché guardate Sono tanti di quelle leggende Sul Medievo Che non sono vere E' tutt'altro Che il periodo Dei secoli bui Guardate che dal punto di vista Della chimica Della fisica Della medicina Erano molto avanzati E che del Medievo Si è presa La parte Diciamo Negativa Sì Cioè che era Però guardate Adesso pensate Questo discorso Questo Dei pellegrinaggi Che univano I poveri Ricchi Territori ricchi Con territori poveri Lo scambio Guardate che Ma erano i conventi Che gestivano Tutto il movimento E nei conventi Ci sono anche Le memorie Che saranno state Conservate Ma voi pensate Che quasi tutto Il patrimonio Anche italiano E' patrimonio Di chiesa Cioè Tutte le opere Principali Sono state Dipinte Sono state Finanziate Dalla Dalla chiesa E Perché era così Erano Senz'altro E più ricchi Allora Grazie Mi chiede una cosa C'è una abbazia Importante Qua si accusa E come Abbazia No No L'abbazia Più vicina L'abbiamo A Modica A Modica Ah beh L'altra cosa C'è E' strano Giusta questa domanda Perché I temporali E quindi Poi E anche I cistercensi I cistercensi Erano degli ottimi Costruttori Tanto è vero Che anche Quando riguarda Il castello Magnace C'è Lo zampino Di Moraci Cistercensi Seguivano Tutti La regola Di San Benedetto Anche poi Plunice Tutte Diciamo Diciamo Quello che è stato Bombardato Amnesia Monte Cassino Che era una delle principali Abbazie Dell'Italia Centrale Erano Erano Dei centri Di spiritualità Molto Importanti Non lo so Ma probabilmente Io Mi sono letta Pensate Che ho trovato Degli scritti Di Paolo Orsi Del 1906 Che sono state Pubblicate Anche in tedesco In francese C'è questa notizia Anche di Riccardo Cordileone Che da lui Alcune Di queste notizie Poi mi sono messa A spunciare Altre cose Il Venivano Probabilmente Le distruzioni Hanno cancellato Alcune cose Però Non le ho trovate Tracce Di Importanti Abbazie Come si conosceva Allora Non lo so Come mai Mi porrò Il problema Comunque Non Non ce l'abbiamo Qui Davvero Paolo Vittorio Tu hai Conoscenze Io Devo dire La verità Tempo fa Evi la possibilità Di trovare Una Una Pubblicazione Del 1912 Che c'era Paolo Orsi Che ha sollecitato Il ministro Di allora A fare Un censimento In tutta Italia Dei monumenti Delle varie epoche E Proprio Sofollineavo Con riguardo Siracusa Che le cose Più interessanti Erano Gli aspetti Storico Greci Romani E poi Il barocco Del medioevo Diceva Pesta e corna Perché effettivamente Non lo so Per quale motivo Ma non Che avesse un'avversità Troppo Spera Al periodo barocco All'alto medioevo Noi purtroppo Non abbiamo Grande cose Perché veramente C'è una cosa Soltanto che va Analizzata E va Tenuta in considerazione La caratteristica Di Ortigia Perché Ortigia è importante Non tanto perché Un'isola Ma perché È importante Perché Ha ancora In molte Sue parti La struttura Diaria Dei fondatori Cioè Gli archia E dei suoi Diciamo Coloni E quindi Ha fatto sempre La parte del leone Per il periodo Greco Se ci sono Una cosa A proposito Del medioevo Io non sono Un costoso Non ho Sottoscienze Però Sicuramente C'è stato Un periodo Ultimamente In cui Si è tentato Di Ridare importanza Al medioevo Come Un momento Che non è Dei secoli Pubblici Ma una cosa È certa Che Noi Dal 400 Lo pubblico Fino Al 1600 Noi abbiamo Un momento In cui Ci sono Delle Conoscenze Che vengono Totalmente Dimenticate Questo È strettamente Collegato Al fatto Che la Chiesa Diventa Il potere Temporale Cioè La Chiesa Prima Del 400 Non era Potere Temporale Poi Diventa Potere Temporale E qui Si trasforma Il potere Temporale Diventa Assoluto Assoluto Si distrugge Tutto ciò Che non è Quello Che pensa La Chiesa O quello Che dice Il Cattolico Vedi Il nome Della Rosa E questo Ripara Non solo Le conoscenze Relative Alla Aristotele Ma anche La scienza Noi dobbiamo Aspettare Il Galileo Per recuperare Le conoscenze Di Archinello Si però Scusa C'è tutto Il filone Degli ebrei Che invece Noi abbiamo Manoscritti Di greci Raffutani Sulla scienza Come dici tu Che sono Alla Galleria Nacionale A Parigi O al British Museum Perché qui Abbiamo Perché poi Appunto Ti dico Cosa succede Però Finisco Per dire Questo non Significa Che sia Tutto D'ammutare La Chiesa Che prende Il potere Mantiene All'interno Delle sue Abbazie Conventi Il convento Di Ispica Dei Però Non avremo Questa E mantiene La cultura Vedi La stessa Ripeto Io poi Prendi Il nome Della Rosa Per dire Un esempio Là C'è Una biblioteca Che riprende La cultura Che poi Viene però Cruciata Da loro Stessi Allora Il problema È che Non è tutto Da buttare Ma sicuramente Non è La stessa Momento Di crescita Che noi Abbiamo avuto Ai tempi Dei greci Perché dal 400 Avanti Cristo Fino al 400 Dopo Cristo Diciamo Che c'è un Momento Di crescita Che poi Si stabilizza E poi Sparisce Abbiamo il Buro Bisogna Ritornare Al 1600 Per avere Poi La rivoluzione Industriale La prima La seconda E poi Ora Dove siamo Questo È sicuramente Vero Noi Abbiamo avuto Anche un'altra Sportuna Quando riguarda Siracusa Se frequentate Se frequentate L'archivio Di Stato La Lagoniana Tutto il resto Noi Non abbiamo Testimonianze Dirette Fino al 1474 Tant'è vero Che anche Il discorso Della ricostruzione Della storia Degli ebrei La prendiamo Da fuori Perché Sono state Come poi Loro avevano I commerci In Nordafrica Quindi ci sono Per esempio Pergamene Cose Scrite In Nordafrica Di commercianti Di mercanti Di vita Siracusana Qui non abbiamo Niente Perché Oltre Alle Diciamo A parte Le invagioni Barbariche Ci sono state Un po' In tutta Italia Noi abbiamo Avuto La trasformazione Della In questo caso Di Ortizio Comunque Della città In città Militare E abbiamo Avuto Due Grandissime Rivolte Potremmo dire Delle Guarnugioni Che erano Ospitate A Castello Maniace Che una volta Bruciarono La biblioteca Dell'Arcivescovado E altre volte Distrussero Completamente Il Diciamo Se lì ci parla Della biblioteca Dell'Arcivescovado E capiamo La cosa precisa Però evidentemente Hanno poi I militari Tolto Cioè Bruciato Poi Abbiamo avuto Noi Questo passaggio Continuo Di varie Civiltà E ognuna Che veniva Cercava di distruggere Le testimonianze Degli altri Per esempio Il lavoro Fatto Dai normanni Che avevano Tra l'altro Sapete Avuto Anche Dal papa La denica A riportare La chiesa Latina Perché qui Tra l'altro Noi eravamo Chiesa greca I basiliani Via dicendo E hanno Sistematicamente Distrutto Perché Noi Mi potete Confermare Che per esempio Del periodo Arabo Tranne Un po' La parte Viaria Cioè Della Graziella Alcuni punti Tipicamente Con la disordine Antimetrico E cose Degli arabi Non abbiamo Solo Due Cocci Due piatti Non abbiamo Praticamente Niente Del periodo Pure Gli arabi Sono stati Dall'878 Sono stati Due secoli e mezzo Possiamo annunciare Quel concetto Che avrà Di abbinare Immagini storiche Della fotografia Con Della fotografia storica Della città Quindi penso che a breve A breve faremo questo Cioè partendo Dalle immagini Storiche Di archivio storico Ecco Di fototeca Siracusana Abbinando Perché io tra l'altro Io amo molto Il Medioevo Non è che Ho sempre studiato Solo Quindi Quindi il caso Del Duomo Il Duomo Quindi È Unicum Cioè Il fatto di aver Rispettato così tanto Le culture passate È Un episodio Perché gli altri Hanno veramente Intentato di fare Tabola rasa Un po' di quello Che c'era prima Giusto? Sì Senz'altro Il Duomo di Siracusa È quasi Un unicum Comunque Anche qui Altri tentativi Sono stati Per esempio Il Tempio di Apollo Se voi guardate Sono rimasti Dei resti Di quella che era La moschea Poi ci sono i resti Della chiesa normanna E voi Se vedete Dalla salita Di San Paolo Ci sono Poi Cioè Ci sono stati Altri Integrazioni Di cose Però Il Duomo Ha avuto la fortuna E lì probabilmente Quando i normanni Hanno fatto Della Cioè diciamo L'ordine interno Quello dove abbiamo Le arcate Tutto senso Insomma Evidentemente Hanno rinforzato Perché hanno esistito Anche ai terremoti Quindi è Perché poi Noi abbiamo avuto Quello del 1547 Quello del 1693 Come vedete San Giacomo A Messina Col terremoto Del 1908 È sparito E noi Qua Tutta la Sicilia Orientale Occidentale Cosa lì Abbiamo avuto Tante Eh sì Comunque Veramente È bellissimo Tra l'altro Cioè Mantenuto Lì per esempio Dei bizantini Abbiamo due pezzi Di pavimento Abbiamo molto poco Tutto sommato Va bene Algo vedi Cioè Quindi A parlare Grazie Grazie Grazie